Il cibo è più di ciò che mangiamo, è la base delle nostre culture, delle nostre economie e del nostro rapporto con la natura. Ma i sistemi alimentari di oggi sono fragili e ineguali e la pandemia ha colpito soprattutto i più vulnerabili. Tutti siamo responsabili, dobbiamo pensare e agire in modo diverso perché insieme possiamo costruire un mondo più equo e più forte. Per questo l'Italia pone l'alimentazione al centro del suo impegno e ospita a Roma il pre-vertice sui sistemi alimentari sostenibili delle Nazioni Unite, insieme, per non lasciare nessuno indietro.